A parte che prima avevo già fatto cose buone perché ero arrivato secondo a Roubaix, avevo vinto poi a Rouen, che avevo preso maglia gialla, maglia ciclamino, cioè il secondo giorno a Roubaix, il terzo giorno a Rouen, ho preso tutte le maglie e me lo ricordo ancora che le avevo disposte là in fondo sul letto, c'erano quei letti alti una volta e me ne guardavo, soprattutto quella gialla che era quella che contava. E niente, quel giorno lì a Rouen per dire una fuga di 10 corridori, 7-8 corridori, ma in finale, e io non conoscendoli ancora, tutti questi professionisti perché ero dubbiltante, sul guantino sinistro avevo segnato i velocisti, su quello destro avevo segnato i numeri naturalmente di quelli che facevano la classifica. Tra questi velocisti c'era un numero, che era quello di Darigat, campione del mondo, e allora cosa ho fatto? All'ultimo chilometro c'era un zappellotto, sono partito in contropiede, ho guadagnato 10-15 metri e sono arrivato primo con 10-15 metri. Ma tornando a Revard, a Revard praticamente arrivavano un po' tutti, Salvarani, non Salvarani, Dottor Quarenghi, i miei amici, perché eravamo vicino a Ginevra, più o meno quella zona lì, e tutti mi dissero, vai tranquillo, quello che dovevi fare l'hai fatto, cosa vuoi di più, nessuno speravamo così tanto. Poi io ho detto, aspettiamo un minuto, perché io da direttante ho vinto delle cronoscalate, e anche importanti, quindi domani vediamo. Partenza, dico a pezzi, quando sono andato a scaldarmi, Luciano tranquillo, le gambe sono buone. Poi passo, perché non è come adesso che c'è un radiolino e tutto collegato, passo dalla prima lavagna, meno 18 mi sembra, meno vuol dire che ero dietro. Poi passo la seconda, pari, quindi stavo già recuperando. Nel frattempo rompo un pignone, perché avevo montato tre pignoni per la salita e due per la pianura. Rompendo quello centrale per la salita, cosa ho fatto? L'ultimo pezzo, un dente in più, e ce l'ho messo tutta, e ho fatto la differenza. Mi dispiace tutto sommato anche per Polidol, perché era l'unica occasione che poteva vincere il tour, sono arrivato la Euro per gli scatole.